Rieccoci, torniamo a parlare di calcio, dai, torniamo a parlare di calcio che è meglio. Io non so se ve lo devo dire, perché siete tutti di buon umore, ho visto questa mattina un po' di milanisti a cui l'ho detto e gli è cambiata la faccia, ma vi avviso, giocheremo Fiorentina-Mina senza Teo Hernandez e l'andata di Milano-Roma senza Calullo e senza Tomori. Questo ve lo dovevo dire, questo ve lo dovevo dire, perché poi ci si dimentica, ma a Praga Tomori è stato ammonito, era diffidato, salta l'andata di Milano-Roma. Calullo purtroppo per l'infortunio che ha avuto, ieri tornavano le ronde dei messaggi qui nella community, ah, nuovo infortunio. Ragazzi, ha preso un colpo e ha avuto un problema al ginocchio. Se tu prendi un colpo, ragazzi, adesso che gli infortuni sono stati una piaga clamorosa di questa nostra stagione, non li minimizzo e non li nego. Speriamo che nel corso del mese di aprile, che si sta ormai avvicinando a larghi passi, noi si possa rivedere anche Tommaso Pubega. Però, ragazzi, se uno prende un colpo e si infortuna è calcio, eh. È calcio. Quindi non è che adesso, anche a distanza di mesi, dai mesi duri degli infortuni, appena ce n'è uno, ha preso un colpo, ragazzi. Ragazzi, ha preso un colpo. Quindi non è colpa mia, sua o tua. Prendi un colpo, si gioca a calcio. Purtroppo Calulu ha un problema diverso da quello che l'ha tenuto fuori per molto tempo a Napoli in ottobre, ma è un problema traumatico e quindi lo affronteremo. Si parla di 5-6 settimane, due vanno via con la sosta. Vediamo, speriamo, ad aprile, ad aprile che quando torni Calulu ci sia ancora un mese di campionato. Questa notizia di Calulu è arrivata, manco a dirlo, quando ieri mattina vi dicevo vedete che bello ruotare i difensori, avevamo i difensori veloci in campo contro l'attacco veloce del Verona. Pam! È l'inizio della sosta. Speriamo che questa volta la sosta, ragazzi. Speriamo bene. Cioè, che una volta tanto la sosta non ci perseguiti. Quindi, adesso, d'ora in poi, ogni giorno, ogni notizia che riguarda il mio, la notizia che riguarda la Roma viene interpretata. Ad esempio, Lukaku, un problemino, salta una partita col Belgio, non vanno in nazionale nemmeno un Dica e Bove. Insomma, ogni notizia che riguarda il mio, la notizia che riguarda la Roma viene interpretata in chiave andata di Europa League, è un quarto di finale con l'italiano, fa notizia, se ne parla, ed è normale che sia così. È chiaro che, insomma, andare a Firenze senza Teo, Teo è stato squalificato per un turno per comportamento non regolamentale. Ecco, io qui, quando leggo queste cose, mi vengono in mente le tre narici. Cioè, le decisioni tre nariciute. Anche contro l'evidenza, ma ormai è una mia decisione, te la vecchi. Non c'è stato nessun comportamento non regolamentare ai Teo Hernandez in capo. Teo Hernandez ha esultato, come esulta sempre, è stato male interpretato e è stato messo in mezzo dalla panchina del Verona che aveva voglia di... Diciamolo pure, non me ne voglio al Verona, che è un bravissimo allenatore e una bellissima squadra, complimenti a tutti. Però, diciamo, la panchina del Verona era in casa, ha pensato nel fumus del gol preso che ci fosse un'irriverenza di Teo Hernandez nei confronti dei propri tifosi, allora ha voluto farsi un po' bella agli occhi dei propri tifosi. E c'è finito in mezzo Teo Hernandez. Ma non va bene così, ragazzi. Non è giusto. È andata, il Verona proseguirà la sua corsa, ha una bellissima squadra, ha operato molto bene sul mercato, secondo me è una squadra che può solo salvarsi, perché è veramente forte, però quella cosa di Teo non mi va giù e non passa e non è giusta. Ne ha già parlato anche Marco Baroni dopo la partita. Noi dobbiamo pensare alle nostre cose, io devo dirvi la verità. Le cose che riguardano il Milan, vedete, vengono triturate, sminuzzate. Lo so qual è il vostro retropensiero. Se in certe vicende ci fossimo di mezzo noi, ci sarebbero le interrogazioni parlamentari. Io non lo so, questa è una rivendicazione, ragazzi, dalla quale dobbiamo stare lontani. A me interessa solo che ieri sera il Milan abbia, nel corso della giornata di ieri, il Milan abbia preso con forza la posizione del We Respect, il nostro rispetto nei confronti di cose, di principi umani basilari. Io, guardate, all'inizio di questa vicenda ero anche indulgente nei confronti di Francesco Acerbi perché l'ho conosciuto, so che è un po' ruvido nei termini, ma è una ruvidezza, una ruvidezza figlia così, di un suo modo culturale di approcciarsi alle cose, non di cattiveria. Certo è che quando ho letto ieri sera quello che ha scritto Juan Jesus su Instagram, francamente ho fatto 300.000 passi indietro perché sono frasi devastanti, frasi che fanno male, frasi che non possono minimamente passare, sulla quale non ci può essere nemmeno lo spazio piccolo piccolo di un minimo di indulgenza. Quindi è stato un episodio molto molto forte. Ho letto da qualche parte che viene messo sotto accusa Juan Jesus, non scherziamo, non scherziamo, Juan Jesus ha fatto il possibile per evitare di spettacolarizzare una vicenda di quel tipo. Poi però il giorno, fin dalle trasmissioni della domenica sera, il giorno dopo, le dichiarazioni, le interviste, le cose, la cosa è andata avanti e Juan Jesus non ha potuto fare a meno di intervenire. Però ecco, noi evidentemente ci dispiacciamo di queste cose, siamo in campo in prima linea su queste cose, in qualsiasi partita cadano, qualsiasi giocatore riguardino, qualsiasi colore di maglia ci sia in campo. Tutto prescinde dai colori delle maglie, dal nome e dal cognome dei giocatori. Sono i principi che contano, i suoi principi, dopo quello che ha scritto Juan Jesus su Instagram. Non si può evidentemente transiccere. Però, francamente, non dobbiamo mescolare cose oltre le vicende terrene del calcio e che appartengono al genere umano con le nostre rivendicazioni, le nostre cose, spazio, non spazio, no. Dobbiamo semplicemente condannare e basta. E poi, naturalmente, chi dovrà avaliare, verificare, appurare quello che è successo o non è successo, evidentemente lo farà. C'è una sostanza delle cose, non una forma delle cose. Per il resto, di quello che sta accadendo a livello di... Iniziata la sosta, abbiamo avuto, purtroppo, l'infortunio di Calulu e il passaggio del decreto di perquisizione, che era già sotto i giornali, dagli uffici della Procura di Milano agli uffici della Procura federale. Mi è sembrato di aver letto da qualche parte che nemmeno tutte le 12 pagine siano passate, ma solo quelle che, evidentemente, la Procura riteneva potessero essere di interesse sportivo, di disciplina sportiva, di giustizia sportiva per la Procura federale. Quindi, però, cose che avevamo già letto e che erano già note, quindi non ci sono fatti nuovi. Per quanto riguarda poi, invece, le carte vere, quelle che emergeranno dagli incroci, dagli sconti, dalle verifiche, dalle letture, dall'interpretazione della Procura di Milano su quanto sequestrato, quello vedremo che tempi e soprattutto che natura e che sostanza avrà. Lo vedremo, lo vedremo insieme. Ciao a tutti, a domani.